Quirighetti, quanto può reggere l'economia russa con queste sanzioni? Poco, perché penso che non se l'aspettavano di bloccare giustamente il sistema di pagamento. Sappiamo che la Banca Centrale aveva delle grandi riserve, più di 600 miliardi, però una grande parte giustamente non può più accedere perché nei Paesi, nei Stati Uniti, in Europa, dunque su questi 600 miliardi c'è circa un terzo che può utilizzare dell'oro che ritiene a casa e un po' di obbligazione che ha verso la Banca Centrale cinese. Ma di più, avete visto cosa sta accadendo con il rublo, ci sarà un'inflazione molto forte adesso in Russia e dunque lì veramente la situazione anche per il popolo russo, per l'economia russa è molto difficile. Per il momento c'è ancora qualche dollaro che rientrano perché ce la fanno a vendere forse un po' di greggio, di metalli industriali, però la situazione certamente sarà molto complicata con inflazione e recessione in Russia nei prossimi mesi. Senta, ieri Putin ha firmato un ordine con il quale impone il pagamento dei debiti da parte dell'amministrazione delle aziende russe verso l'estero in rubli. Questo che cosa significa, ammesso che qualche azienda europea ancora possa ricevere pagamenti? Significa dei guai, dei guai perché oggi anche diciamo ricevendo dei rubli le banche in Europa, negli Stati Uniti non possano cambiare questi rubli dunque facciamo il caso che qualcuno riceve oggi una cifra di rubla tanto le deve lasciare così perché non ce la fa a cambiarli o è molto difficile a cambiarli in euro o in dollaro dunque è un po' come una carta che non serve troppo per il momento.